32esima settimana tempo ordinario anno dispari martedì la dignità dell'uomo il libro della sapienza scritto un secolo prima della venuta del signore lui la sapienza in afferma qualcosa di stupendo quando scrive così dio ha creato l'uomo per l'immortalità lo fece a immagine della propria natura la dignità dell'uomo dio gli ha comunicato creandolo di essere immortale ormai dio gli ha donato di essere a sua immagine il nemico dell'uomo ce lo dice ancora l'autore del libro della sapienza e il diavolo la causa l'invidia l'invidia per chi cosa per la vita divina immortale essere stati creati l'uomo la donna a immagine di dio l'uomo e la donna a immagine di dio ha scatenato l'invidia del diavolo il diavolo ha tentato subito la creatura umana l'uomo e la donna nel paradiso terrestre perché avevano qualcosa più dell'angelo potevano comunicare la vita l'uomo e la donna dotati di comunicare la vita e lungo i secoli e millenni miliardi di persone trasmettere la vita il giusto l'amato del signore colui che corrisponde nella fede a questo progetto di dio vive pieno di speranza e dio trova il giusto colui che si affida lui nella fede degno di sé anche se il signore ci prova come viene provato l'oro nel crociolo ma alla fine ecco lo sguardo finale il giusto risplenderà i giusti comprenderanno la verità e vivranno presso dio presso l'amore la grazia viene da dio la misericordia viene da dio e dio comunica grazia e misericordia ai suoi eletti gli occhi dei giusti vedranno il signore vedere dio come egli è questo suppone però un itinerario di impegno un lavorio spirituale un servire il signore diventeremo perfetti immergendoci nel figlio di dio gesù senza di lui saremmo servi inutili gesù ci promuove prima parla di un servizio poi ci parla ad amici poi risorto ci chiamerà andate a dire ai miei fratelli tutti gli apostoli si firmeranno servi di dio servi del signore come i profeti così san paolo così san pietro così san giacomo così san giuda maria si firma la serva del signore nel momento in cui dio le propone di diventare madre del suo figlio divino lei si dichiara ecco la serva del signore compiere il servizio di maria madre del signore No, no. No. Grazie a tutti.